bella raga bentornati qui con me su KBTV io sono KB Gokko e oggi è lunedì e quindi come di consueto ci aspetta una nuova emozionante sfida su Dragon Ball Z ultimate in calci che andiamo subito a pestare il nostro sfidante oggi siamo Radish, noi contro Versus, cosa posso fare? Versus Nappa, il nostro fratello Saiyan, se possiamo dirlo così vediamo se lui fa triangolo, no lui fa quadrato quindi ci pesterà per un po' e vi volevo, togliamo il telefono da qui che se inizia a suonare poi voi sclerate dicevo, vi volevo ricordare come al solito di mandarmi le clip di qualunque gioco, se le avete e... oddio, no no no, triangolo, si, dicevo questo, 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 adesso lo farà anche lui, ovviamente dobbiamo riuscire a portarci in vantaggio no, Rolly farà di nuovo quadrato eh vabbè ehm... cosa volevo dirvi? no 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 no, aspettate ehm... aspettare aspettare sì, volevo portarvi due giochi bonus nuovi, diciamo però, ehm... uno purtroppo non riesco a portarvelo adesso sto provando ad aggiornarlo perché è un gioco abbastanza vecchio però sto provando così ad aggiornare se c'è una patch o qualcosa del genere più recente perché il gioco non era di sicuro per Windows 7 poco, ma sicuro andiamo se riusciamo nooo, ma allora sei schifoso eh, eh vabbè io non mi devo far andare alla massima potenza forse cosa facciamo? la rispingiamo? la pariamo? la pariamo? parata tattica parata tattica, dai non toglie poco vi volevo dire tolte tutte queste cose che ho una marea di richieste quindi, eh... penso che non dico a breve però prima o poi verrà annunciato un nuovo gioco no, perché ho fatto sta roba? un nuovo gioco di Dragon Ball prima o poi qualcuno lo... lo... lo annuncerà quindi, le richieste le accetto però poi tra un... per dire sei mesi eh... non riuscirò più a farle nel senso che comunque a parte che le sto facendo da veramente tanto tempo queste richieste e poi all'inizio, tra l'altro io le pigliavo e ne avevo poche ora se vi dico quante ne ho ci rimanete sette di richieste cioè non ne ho dieci di richieste in lista ecco, per farvi capire quindi, eh... probabilmente ne avrò per... per... per un anno forse sì, cioè quindi prima o poi quando annunceranno il nuovo gioco eh... mi toccherà no, 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 no perché sono deficiente? mi toccherà eh... smettere di farle anche perché comunque ne ho fatte veramente tante quindi voi fatemelo però ragazzi non me ne vogliate se le ultime non riesco a farle quindi... tutti quelli che eh... me l'hanno già fatta magari da un paio di mesi probabilmente vedranno la loro richiesta eh... esaudita mettiamola così tutti gli altri eh... se annunceranno un nuovo gioco non riuscirò a farla probabilmente se tutto va bene ve le farò sul... le posso tras... trasportare mettiamola così sul nuovo gioco nel senso che ve le farò quando sul nuovo gioco ho la possibilità di fare le sfide comunque oddio no, 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 no qui mi secca sicuro qui mi secca non so perché gli ho dato le spalle poi, poi eh no Godo ti ha fatto quadrato Godo ti ha fatto quadrato è l'unico è l'unico punto di appiglio e forse ci salviamo per quello perché parala vai dai, dai, dai si vai ho vinto Godo Godo si vai così KB comunque io intanto le faccio le richieste sempre due alla volta sempre non so se è bastato dicevo le farò le richieste continuerà dai, dai sentimi devi far fare la massa la mossa finale del no, no si vai eccola vai ciao bello vattene vattene proprio perché qui vai al 19.100 spero di toglierteli spero di toglierteli 19.100 ti prego ti prego ti prego sì, sì 27.000 ragazzi è devastante quanto toglie sto personaggio è improponibile 27.000 è una cifra esagerata c'è Radish che toglie così tanto vabbè meglio a me non cambia niente però toglie veramente un botto l'altra sfida di oggi invece è Bardacchino il nostro papà il nostro umile papà contro un simpatico nanetto viola violaceo violettino violitto insomma il simpaticissimo e grandissimo potentissimo freezer il potente freezer il grande potente freezer ma non so grande non credo cioè a parte la seconda trasformazione un po' la terza cioè proprio di grande non ha niente freezer poi anzi la prima ragazzi c'è proprio un metro e cinque di personaggi è cattivissimo perché con le corna sembra veramente cattivissimo però piccino piccino io a dire il vero stavo parando poi se tu non vuoi parare è un discorso però io stavo parando para vai e pestiamolo no para e pestiamolo si 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 spacchiamogli la testa vai a sinistra dagli una botta scassatelo in basso testata ragazzi alla vegeta questa questa è una testata alla vegeta no no che se fa le ondine mi becca poi mi toccare spingere non c'ho assolutamente lo sbatti più totale non ho lo sbatti più totale yahoo e la la 12.000 è una marea è tantissimo è fortissimo ha un'aura potentissima no dai ma mi toccare spingere non c'ho voglia di dire spingere volevo andare alla massima potenza e uccidere freezer invece mi toccare spingere dai vediamo se ci riusciamo oh no per un pelino 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 così ho perso tutta la massima potenza guarda lì cioè tutta no ma metà e pestalo quadrato dai figurati no nel momento in cui devo fare il triangolo serve il quadrato pestalo quadrato eh tanta roba eh così ti piace di solito non faccio quadrato però però se ci tieni a prendere un quadrato in faccia non credo non credo prenda un quadrato in faccia beh però il pugno no è un rettambolo mi sono guardato il pugno no perché ragazzi questo è normale lasciate perdere massima power massima power vai no mi ha sparato via no 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 e mi verrà oppla e via dai 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 si 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 non c'avevo sbatti di se no eh no 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 piglialo così com'è non fare niente ciappati sto coso e pigliatelo in faccia barra da qui mi dispiace ma intanto non toglie niente poteva anche trasformarsi freezer eh dal simpaticone questa non mi piace ragazzi questa versione non mi piace anche perché io ero alla massima potenza non c'avevo proprio tutto mh potevo magari iniziare a schiacciare quadrato un pelino prima detto come va detto no ah lui non è alla massima potenza ma basta ma basta sta roba poi continuo come un deficiente a far quadrato capito come un deficiente a far quadrato io eh mi sa che qua ci resto io ragazzi non ho più il potere no no volevo fargliela io tra l'altro perché non gliel'ho fatta ho avuto tre occasioni per fargliela eh speriamo non tolga 24.600 cosa vi devo dire preghiamo che non tolga tutta sta vita se no è la fine di bardak come nel film no no mi ero convinto no no mi ero convinto vabbè fa niente peccato va bene ragazzi spero che comunque il video vi sia piaciuto e ci vediamo come al solito con i prossimi video bella ciao 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 ciao